Un calcio di rigore di Mandarano al 92esimo, quindi in pieno recupero nel secondo tempo, consente alla capolista Belvedere di avere ragione di un coraggio calcio Acri. 3-2 il risultato finale per il Belvedere, eppure è stata una partita molto tirata, avevano segnati per primo proprio i casentini dell'Acri con Pedrinho al 24esimo, con il pareggio al 46esimo di Amentola. Poi nel secondo tempo ancora una volta l'Acri riusciva a passare in vantaggio con Joao Lopez raggiunto da Garritano e quindi poi alla fine il finale trailing con la realizzazione appunto di Mandarano che consente al Belvedere di mantenere le distanze, i due punti di distacco proprio dalla Praia Tortora che è andato a vincere in trasferta a Soveree Mannelli contro la Garibaldina. e dobbiamo ricordare ancora una volta che il Belvedere rispetto al Praia Tortora ha una partita ancora da recuperare.